Guarda là! Sì, non ho scusato l'acqua. Chi è il suo bambino? 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 Uo più il spazio! Già il suo bambino? Ehi! Buon Natale! Voi, vai, vai! Vai, vai, vai! Francesco! Ehi! Buon Natale! Allora il Babbo Natale si possono disposti sul sagrato della chiesa, quindi le persone ovviamente che sono da qui salite, se mi fanno la contasia mi fanno lo spazio, quindi Babbo Natale disposti sul sagrato della chiesa e il Babbo Natale è quello anziano, quello più stante del centro. No, 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 no. No, 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 no.